Viene il mattino, Aleppo, Siria, riparare la casa, gualire il cuore. Padre Ibrahim. Bentrovati a tutti, siamo di nuovo insieme. La volta scorsa c'era solo Don Angelo con i suoi animatori e i suoi ragazzi. Oggi siamo ancora qui a Giffa. I ragazzi sono appena andati ma non hanno incontrato solo Don Angelo che vedete qui accanto a me. Hanno incontrato l'autore di questo libro, Padre Ibrahim, che è parroco ad Aleppo. Basterebbe dire questo per cedergli il microfono e metterci in ascolto. Siamo molto contenti di ospitare anche come televisione, oltre che come comunità di Giffa, Padre Ibrahim perché ci aiuta a guardare oltre i confini magari ristretti dei nostri piccoli problemi qualche volta o anche grandi. E ci aiuta soprattutto a non dimenticare e a ricordare che siamo tutti figli di uno stesso padre ma soprattutto credo sia lui a portare parole di speranza a noi. Quindi lascio a Don Angelo che lo ha conosciuto di più, lo ha incontrato proprio oggi pomeriggio prima di andare all'incontro al Teatro Maggiore di Verbagna. L'ho incontrato con i suoi ragazzi, magari ci aiuta lui a far raccontare qualcosa a Padre Ibrahim. A te Angelo. Grazie a Don Renato per la linea, grazie agli amici che da casa ci seguono. Sono contento e emozionato di essere qui in mezzo a due amici preti che stimo e ammiro e che ci aiutano a far vedere come davvero la Chiesa cammina nella quotidianità e cammina accanto alle fatiche, alle gioie delle persone. Padre Ibrahim è un piacere averti con noi, so che sei in una specie di tour quasi, quindi sei anche un po' stanco, noi non approfittiamo del tuo tempo più di quello che possiamo, però ti vogliamo chiedere intanto benvenuto, grazie di aver raccolto questo invito. In questo libro tu racconti un pochettino il periodo di ricostruzione, dopo il periodo duro e faticoso di vita sotto i bombardamenti, oggi c'è una piccola speranza che si riapre. Ti va di condividere con noi, se hai voglia, il prima e l'ora? Era il 22 dicembre 2016 quando abbiamo sentito così all'improvviso di un accordo di cessato del fuoco fra l'esercito regolare e anche fra le diverse milizie armate che proprio hanno diviso fra di loro tutta la città di Aleppo. Noi non ci credevamo, ma poi abbiamo scoperto che era veramente reale e che tre giorni del Santo Natale era per noi il regalo quindi di Gesù che si è fatto bambino per noi. Poi sicuramente prima con i missili che cadevano sulla testa, sulle chiese, sulle moschee, sulle scuole, gli ospedali, sulle strade di giorno e di notte con tutta la fame e poi anche con i prezzi alti alle stelle senza acqua e con i diversi problemi poi di malnutrizione abbiamo guardato attorno e abbiamo visto, almeno abbiamo sperimentato un po' di pace senza i missili ma guardando attorno abbiamo visto una città distrutta e come Sarajevo dopo la guerra mondiale e come proprio i scenari più tremendi della guerra e lì abbiamo domandato un po' come chiesa ma chi avrebbe ricostruito questa città per i suoi cittadini? Il governo subito aveva detto guardate siamo ancora in guerra nel paese e siamo stremati, non ce la facciamo ad aiutare in niente e allora abbiamo capito la nostra grande responsabilità come chiesa di ricostruire questa città e più che ricostruire la città, ricostruire la persona che è stata veramente rilasciata piena di ferite moribonda proprio lasciata così in mezzo alla strada senza nessuno strumento per una vera guarigione e per una vita nuova abbiamo cominciato con i progetti con la providenza divina e con gli amici che il Signore ci ha mandato da tutte le parti del mondo che ci hanno aiutato attraverso la preghiera ma anche attraverso il sostegno materiale concreto per un po' lentamente noi con le mani nude con i nostri giovani per la ricostruzione di questa città fino ad oggi abbiamo ricostruito 1200 case danneggiate dalle bombe abbiamo dato possibilità di lavoro a 400 persone abbiamo distribuito perfino siamo arrivati a 3700 pacchi alimentari a 3700 famiglie bisognose ogni mese abbiamo coperto con un'assistenza sanitaria tutte le spese della cura sanitaria degli interventi costosi e abbiamo perfino anche sostenuto un centro di doposcuola di 150 bambini e anche un GREST ma anzi 8 GREST che abbiamo adottato quest'anno ad Aleppo per più di 1500 bambini di tutta la città di Aleppo quelli bambini che sono proprio gli elementi più fragili della società che soffrono nella maggior parte di loro soffrono tanti sintomi di disturbi psicologici se non anche corporali e anche intellettuali abbiamo lasciato parlare padre Ibrahim non l'abbiamo interrotto abbiamo ascoltato le sue parole e come se simbolicamente Renato stiamo camminando per le vie di Damasco proprio in questi giorni le letture che ascoltiamo nella liturgia della messa del mattino quando uno la celebra hanno il nome Siria dentro che ritorna è la storia della nostra vita religiosa è la storia del cristianesimo è la terra dove si è convertito Paolo e da dove molto è iniziato perché grazie al suo impulso evangelico anche noi siamo diventati cristiani probabilmente quindi dobbiamo avere a cuore la vostra terra dobbiamo sentirla nostra dobbiamo sentirci parloci altrettanto insieme con te di Aleppo anche io e Don Renato abbiamo un amico comune padre Raed che magari tu conosci che è a Gerusalemme che dice che ogni cristiano deve avere oltre la sua parrocchia di origine deve avere anche come parrocchia Gerusalemme sempre e noi stasera raggiungiamo anche Aleppo Ibrahim quando tu parlavi prima io sono rimasto molto colpito di quello che dicevi e nel tuo libro anche racconti un episodio molto particolare cioè di quando in una messa i bambini hanno portato qualche segno qualche simbolo per ricordare attraverso i segni della distruzione della guerra motivi di speranza per la pace ci puoi ricordare questo episodio? sì era 2015 durante una messa la messa domenicale più affollata del dopo pomeriggio della domenica quindi la messa parrocchiale per eccellenza la gente la folla era proprio in tutte le parti della chiesa è lì che cade un missile sulla cupola colpisce la cupola ma è in modo miracoloso dovuto sicuramente come abbiamo sentito tutti noi all'intervento miracoloso della nostra madre Maria questa cupola debole ha respinto questo missile che non ha la forata e quindi non è entrato dentro ma si è esploso sopra questa cupola creando dei danni incredibili frantumando l'argilla ma anche i pezzi di legno molto grossi e anche distruggendo per 5 chilometri tutti i vetri delle case attorno alla chiesa dentro la chiesa soltanto un po' di vetri che sono diventate cadendo come lame piccole hanno creato delle ferite un po' leggere in alcuni dei fedeli ma poi dopo 50 secondi di muoversi di questo pavimento senza capire il perché ho richiamato la gente a non uscire dalla porta principale per paura di un altro missile ma di entrare dalla porta laterale dove lì nel giardino abbiamo concluso la nostra messa dando la benedizione e ringraziando la Madonna abbiamo trovato perfino sulla tettoia della chiesa abbiamo trovato proprio la base missilistica che è rimasta lì e allora l'abbiamo subito adoperata per l'offertorio della messa della domenica seguente l'abbiamo addobbata, l'abbiamo utilizzata come vaso di fiori e i bambini l'hanno portata all'altare per l'intenzione della conversione del cuore di questi fondamentalisti che hanno voluto proprio la morte, il danno, il terrore per noi e che noi restituiamo a loro questo mezzo di morte come un mezzo di preghiera che lo offriamo al Signore per la loro conversione di cuore abbiamo pregato poi anche molto per loro non soltanto in quella domenica ma anche nelle domeniche seguenti perché come dicevo io ai parrocchiani sicuramente questa gente che ci lancia i missili non ha conosciuto Gesù come l'abbiamo conosciuto noi se avessero conosciuto Lui forse sarebbero diventati santi più di noi è invece allora che bisogna pregare per loro e anche per la loro conversione lascio adorenato il compito di proseguire no anche di concludere non abbiamo fatto opposta ma mentre tu parlavi di questo missile sulla chiesa sulla nostra testa girava un aereo probabilmente di qualche turista che vuole vedere le bellezze di questo lago e pensavo a voi che invece ai tuoi bambini che quando sentite questi rumori sulla testa non c'è molto da sorridere e non è solo il disturbo di un po' di rumore è la preoccupazione forte leggevo in questo libro che lo ricordiamo viene il mattino padre Ibrahim edizioni Terra Santa proprio all'inizio chi ha fatto credo l'introduzione dice sentinella quanto resta della notte è una citazione di Isaia il tempo si è fermato da leppo la densità della notte sembra allontanare ancora le luci dell'alba ma nei cuori di chi è rimasto tra le macerie e i segni di morte un'alba di resurrezione è già sorta un minuto per concludere alla luce di questo con una parola di speranza visto che di dolore ne avete già avuto tanto sicuramente secondo gli occhi del corpo quando guardiamo la realtà non guardiamo un futuro sembra un futuro pieno di nebbia un cielo proprio chiuso dalle nebbie dai nubi però allo stesso tempo nel cuore guardando con gli occhi della fede sappiamo che il Signore ha impiantato questa pianta fragile del cristianesimo lì nel Medoriente è di là che l'ha fatta diffondere in tutto il mondo e che lui ha avuto cura di questa pianta per duemila anni e continuerà a curare noi e a curare tutti i cristiani nel mondo io voglio concludendo voglio ringraziare Don Renato ma anche Don Angelo per questa bellissima accoglienza ma non accoglienza fisica a me l'accoglienza del cuore che ha fatto per la comunità cristiana di Aleppo la comunità di San Francesco di Assisi la comunità latina perché come mi diceva un po' prima diceva sai padre noi ogni domenica abbiamo pregato per voi ogni domenica vi portavamo nel cuore e sull'altare del Signore insieme a tutta la gente penso che questa è la comunione vera fra noi che facciamo il corpo mistico di Cristo e questo che ci consola tantissimo ci fa sentire che siamo appoggiati e che la missione non è la nostra missione ma la nostra nel senso più largo e siamo tutti insieme a portare le fatiche di questa missione tante grazie a Don Angelo a Don Renato di nuovo ai bambini del Grest di Gifa e anche a tutta la gente che pensa a noi che prega per noi e che pensa come aiutarci anche in modo concreto grazie dal cuore e con questo saluto di Padre Ibrahim potremmo dire da Aleppo siamo a Gifa ma è come se fossimo ad Aleppo con Don Angelo Padre Ibrahim ci salutiamo noi ci vediamo la settimana prossima con un pensiero a tutti gli amici un ricordo per Padre Paolo rapito in Siria gli altri vescovi e tutti quelli di cui speriamo un ritorno presto di chi soffre ancora e che aspetta questa luce dell'alba e sinking feeling